Benvenuti a tutti sul nostro canale. Se ti fa piacere di essere sempre informata sulle soap turche, iscriviti al canale, cliccando sulla campanellina e lasciandoci un like. Terra Mara, anticipazioni. Zuleyla scopre che Gulten non ha inviato le lettere a Ilmas. La soap turca Terra Mara sta diventando il più grande successo dei pomeriggi di Canale 5. Nonostante un esordio iniziale medio-basso, nell'ultima settimana l'audience ha toccato il 22% di Shah. Oltre 2 milioni di persone stanno seguendo la serie, un numero che ha tutto il potenziale per crescere ancora di più. Nelle prossime puntate, finalmente, Zuleyla scoprirà le bugie raccontate da Gulten. Tutto avrà inizio quando Ilmas uscirà di prigione. Una sera lei ed Emir parteciperanno a un evento. Improvvisamente arriva Ilmas. Il giovane, quando vede Zuleyla, avrà un atteggiamento freddo e distaccato. Inutile dire che questo comportamento farà soffrire Zuleyla, che in quel momento inizierà a dubitare delle parole di Gulten. La ragazza, convinta che Ilmas avrebbe capito quello che è successo se avesse letto le sue lettere, è ammareggiata e avrà un confronto con l'amica, che non ha invitato le sue lettere come invece le aveva promesso. E disperata le dice, ma perché mi hai fatto questo? In lacrime. Zuleyla in quel momento avrà un flashback di quando Ilmas lavorava nella villa ed era molto visibile la cotta che Gulten provava per lui. Sei innamorata di lui? Le tue bugie hanno rovinato così la mia vita, è colpa tua se io oggi sono sposata con Emir. Tuttavia Gulten non ammetterà l'inganno, addirittura giurerà sulla propria vita che lei ha inviato quelle lettere a Ilmas, anche se Zuleyla non le crederà mai a quelle parole. Smetti di mentire, non ha ricevuto mai le mie lettere. Ieri sera quando l'ho visto mi ha guardato come se io fossi un suo nemico. Conosco molto bene Ilmas e questo non sarebbe successo se tu avessi inviato le lettere come mi avevi promesso di fare. La bugiarda dirà a Zuleyla che non sa il perché del comportamento freddo di Ilmas. Fidati di me, ti giuro che lui ha ricevuto le tue lettere. Per ora le anticipazioni terminano qui, ma per non perdere altri video ricordati iscriviti al canale.